Cristiano Vignali per l'Agenzia Stampa Italia in compagnia di Giorgia Meloni. Buonasera. Lei qui in Abruzzo per le elezioni regionali, un commento di questa campagna? È una campagna che ci sta dando grandi soddisfazioni, stiamo girando in lungo e largo con Marco Marzilio, comune per comune per portare la nostra idea di un Abruzzo diverso, vincente, centrale, come centrale la sua posizione geografica, è un abruzzo mortificato da questi anni di amministrazioni di sinistra che non hanno saputo produrre niente, infatti oggi c'è una nuova campagna elettorale parlando di noi e non parlando dei problemi della gente. Noi stiamo provando a parlare dei problemi delle persone, del tema del lavoro, del tema delle infrastrutture, del tema dell'ambiente, delle bonifiche necessarie, della questione della sanità, delle potenzialità legate ai prodotti abruzzesi, alla loro crescita, insomma, dell'industria. Cosa si sente dire agli abruzzesi, ai giovani, alle famiglie, ai lavoratori, ai disoccupati? Che vogliamo costruire un Abruzzo dal quale non ci sia bisogno di scappare, che vogliamo costruire un Abruzzo nel quale le persone che lo amano possano rimanere per scelta, una scelta che molte famiglie oggi non hanno, che molti ragazzi oggi non hanno. E per questo motivo io sono fiera che noi abbiamo candidato alla presidenza della regione Abruzzo come Fratelli d'Italia e come centrodestra Marco Marzilio, perché Marco è l'esempio di un destino che è toccato a tanti abruzzesi, quelli che sono dovuti andare via da questa terra perché qui non c'era un'opportunità. Il fatto che abbia scelto di tornare indietro per noi è un grande simbolo. Noi speriamo che lui possa essere solo il primo degli abruzzesi. Grazie. E tornare a casa. Grazie. Grazie.